Otto Nastri d'Argento Caccia Smutniak e l'intramontabile Elena Sofia Ricci Emozionatissima in particolare Elena Sofia Ricci La suorangela di che Dio ci aiuti che qui è Veronica Lario in Berlusconi E' stato bellissimo E poi ci sono delle cose magari sciocche ma tipo Sorrentino come lo dice? Stop Stop, stop, buonissimo, bravissimo, bravissimo, ottimo, ottimo Sorrentino fa anche un giac solo La suorangela che cosa direbbe di loro due? Quella sta avanti, certo che gli è piaciuto Adorato loro Uno e loro due, tutto Ho deciso che per interpretare Kira non l'avrei giudicata Però racconta una tipologia di donna che per me Caccia è stato difficile accettare Io voglio sapere che vuole, tu fia dammi fio Nella commedia stravince come un gatto in tangenziale Nastri per i suoi protagonisti oltre che per il film Ci riusciremo ancora a ridere di queste cose? Ridere è una fortuna Se questo paese riesce ad ancora avere delle isole fortunate O comunque degli spazi liberi Allora sì Però poi quando la realtà supera ogni forma di ironia o di comicità Diventa difficile Inoltre